salve a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale io sono gabriciu e oggi siamo tornati con un nuovo video spacchettamento dove andremo a fare il pack opening di queste due pokeball team che ho preso alla scorsa fiera prima di iniziare vi ricordo di mettere un bel like ed iscrivervi al canale per non perdere nessuno dei prossimi video non vi costa nulla è gratis e mi aiutate tantissimo alla fiera ho trovato tantissime cose interessanti ma queste pokeball team mi hanno davvero colpito ma oltre queste team abbiamo preso altra roba vi ricordo che abbiamo il boxettino di mask of change se il video del messina con raggiungerà 2000 like apriremo questo box sul canale detto questo è arrivato il momento di spacchettare le nostre pokeball team partiamo con l'operazione chirurgica direi anche meglio di master chef ma prima di aprire le nostre team vi presento il nostro portafortuna di questo video il kingdra ex di segreto fiabbesco una carta davvero spettacolare anzi so che un'eresia ma ve la voglio fare vedere per bene il nostro kingdra davvero spettacolare un pokemon che mi ha sempre affascinato in grado di creare vortici marini semplicemente respirando questa cosa mi ha sempre affascinato molto no no ragazzi tranquilli kingdra non mi piace affatto sì sì qua ne vedete tanti però kingdra vedete c'è un certo rapporto no è un pokemon quasi discutibile sì ora lo vedete in quantità in grande quantità ma insomma come potete vedere vado pazzo per kingdra ma non quanto vado pazzo per anfaros ed eccoci qua abbiamo aperto la nostra team cosa contiene una pokeball team di queste che è edizione 2024 l'album che avete visto è il nostro album l'album storico del canale dove ho messo tutte le carte più importanti che abbiamo trovato in quell'album c'è davvero la mia storia comunque abbiamo una monetina di quaxli molto bellina ma i pacchetti sono quello che ci interessano il contenuto più importante insomma abbiamo lucentezza siderale scarlatto e violetto e astri lucenti perché ho preso queste team principalmente per lucentezza siderale sono rimasto senza pacchetti siled mi mancherebbe solo lucentezza siderale per avere tutti i set siled di spada e scudo lascerò un pacchetto di lucentezza siderale appunto siled non è stato poi così inutile aprire tutti quei pacchetti ho pullato però non ho pullato cose che ti fanno saltare dalla sedia olè qua abbiamo un'altra monetina di quaxli prendiamo i nostri pacchetti queste team sono bellissime da tenere assolutamente nella propria collezione ecco qua i nostri pacchettini kingdra portaci fortuna e noi iniziamo intanto quale tra i due di lucentezza tenere siled ovviamente quello messo un po meglio e io direi che quello messo meglio forse proprio questo con palchia è decisamente messo meglio questo lo mettiamo fuori e vediamo cosa riusciamo a trovare in questi pacchettini facciamo in questo ordine e via eccoci qua da quanto che non spacchettavo nel canale in questo modo quindi vediamo un attimo codicino bianco nero bianco ve lo regalo così rick a4 da quanto che non apro spada e scudo però eccoci qua e andiamo vediamo un po quindi energia metallo torqual energia turbo grotol shins farfetch execute grimer cleferi leopard reverse e abbiamo un axoros tra l'altro ho dovuto per forza prendere queste pokeball team perché era l'unico prodotto che mi dava la chance di trovare dei pacchetti di lucentezza siderale perché c'erano solo prodotti esclusivamente di origine perduta e tempesta argentata quindi voliamo con scarlatto e violetto e vediamo cosa troviamo in questo bel pacchettino energy acqua sprigatito amatissimo sprigatito flittle se viper a undor mesapoli eracross benda sfida paumo reverse vediamo se c'è una gallery una r no abbiamo sunday bellissimo e uno slombro oro carinissimo questo slombro mi piace un sacco troppo bellino ok speriamo bene con lucentezza siderale la carta che mi piacerebbe molto trovare di questo set che ancora non trovato nonostante abbia sbustato come un animale questo set penso sia il set che più ho aperto di spada e scudo ma è anche quello che mi piace di più è un po' sottovalutato questo set lucentezza siderale però lo ritengo davvero un bel set è la carta a cui punto è il garchomp con gamilla di alternative ecco qua spostiamo 4 vediamo se c'è qualche cosa sembrerebbe di no ecco qua ragazzi vi ricordo però di lasciare questi like al video del messina con se raggiungiamo 2000 like apriremo mask of change sul canale quindi dipende tutto da voi mantine voltorb di isui basculine di isui glemiao occhiali super efficaci e basculation di isui non ci sta andando proprio bene vediamo cosa da dirci scarlatto e violetto vediamo se almeno una ex la riusciamo a pullare codicino spostiamo una in avanti e via energie acqua recupero di energia le chonk slowpok buttrell bombirdier ipno campo in spiaggia smolib reverse poche gear 3.0 e abbiamo schele dirge questo spacchettamento mi sa che è proprio andato male vediamo se riusciamo a rimontare con astri lucenti ma la vedo un po' dura ah altro codicino bianco male male 1 2 3 4 e vediamo un attimo energia buio pentolone sigilif premonizione di malpi riolu starly spiritomb purloin nilseri o meno male almeno una gallery l'abbiamo trovata al cremì molto bellino c'è qualcos'altro lapras va bene non va benissimo però almeno una gallery ce la siamo portata a casa si conclude così il nostro spacchettamento vi ricordo che a raggiungimento dei 2000 like mi raccomando apriremo mask of change lasciate un bel like e iscrivetevi al canale attivate pure le notifiche mi raccomando e noi ci vediamo al prossimo video quindi ciao ragazzi